Vincalo, vincalo E la madonna Mi sono andata a fare... Musa chiama? Io vi sono uno che scendeva, però poi mi sono fermato Andate a fare il tuo backpack d'oro, Storchino? Lo vorrei fare, però... Prima game in ranked che facciamo Sì, sì, è vero No, no, lascia stare Volete fare un fair party qua fianco? Un attimo, un attimo Allora no, la risposta è o andiamo o non lo facciamo Un attimo, non è una risposta accettabile Sempre, sempre Andiamo, un attimo Non mi dicono mai no Andi, un attimo Per me un attimo vuol dire sì Ma c'è un po' di lag Mi metto qua Mi dica, io sto allutato con un fork Io sto allutato, ancora non ho trovato roba decente Ah, ok Niente, niente, no, era proprio lì Un metro davvero Allora, guarda, cioè si inizia a fare così No, no, volevo vedere cosa stavano facendo Invece sono lì, quindi niente Mi avvicinavo, vengo da voi Li hanno zippati, eh Quindi, tra più o meno 10 secondi dovrebbero iniziare a fightare Do qua a destra È finito il fight Tutti e tre knockati Dai, fai knockata? Mi ha usato il caustic Sta arrestando, sta arrestando Mi hanno arrestato, stanno arrestato, eh Mi hanno knockato No, no, bliaz Di chi è il balloon? Chi è il ballooner? Io, 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 io La porta non si è chiusa Però, eh Buggata la porta Vai, buscita dentro, buscita dentro Sono solo due No, fai te, vai Presa la lifeline? Faccomi No, sto scontato Dagli una mano, dagli una mano a stroke Sì, fai Dagli una mano a stroke Dentro, dentro Cioè, la vedi sta porta? La vedi sta porta? Baggatissima È bloccata È bloccata Sono morto per quella porta, io Avete il TP, eh? Vieni verso il TP, vieni verso il TP, Tauron Voi li hai mandato in back Arrivo, arrivo, arrivo Riesci a arrestarlo Mandatevi indietro il Revenant Mandatevi indietro anche l'altro È arrivato l'Avretto L'Avretto è full Diciare? Sì, sì Dici, 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 dici Vai il TP, vai il TP Preso Sinistra, sinistra, Skyhawk Sì, sì, lo so, lo so Io ho preso uno Spitfire al fly per terra Perché non ho nient'altro Io ho sbagliato perché me ne dovevo andare Aspetta, c'ho l'accelerante per fare il TP Mi sei messo il stroppino? Io ho tutto Mi fa molto piacere, sai Cioè, il tuo sniper stroke Dietro di noi No, davanti a noi No, no, qua È scappato, è scappato, è scappato Possiamo prenderci quelli che scendono Uno scende in testa mia Da me, da me, da me Ah, la purple questa, eh Ultima di Revenant La britta, la britta Nice Pullati Sopra Vuol dire sopra Pingalo, pingalo Quella La madonna Dai Wow, quello ho sparato a fermo, raga Zio, gli ho fatto 130 in fronte Nella fronte gli ho piazzato tutto il caricatore Ah, tieni le... Eh, zio, io piglio quel che vedo Cioè, non ci posso credere, quello ho sparato a fermo Eh, vabbè Eh, vabbè Io c'ho tre punti, sono felice così Anch'io, ma anche io sono felicissimo Ah, io c'ho due punti, sono contento pure Vieni con me Vieni qua, vieni qua, storchino Potrei stare meno quattro, o meno qualcosa È una lifeline in solo, forse Mox, ma devo stare andando Mox, 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 allora vai D'altro lato Ma io è pazzo questo Vabbè, c'ho una Quanti sono, quanti sono, zi, parlami L'ho ucciso Ma 8 kill Scusa, mi sono il kill leader, voglio rimanere... Ma c'è uno che ha 7 kill Sì, uno c'ha 7 kill Ma come? Eh, sicuro è un gercio, voglio Scusami, gli hai fatto 5 12 Ah, ok Che è il minimo di un colpo, quindi sì, potrei averli fatto 5 Ok Rimani lì Non venirà nell'azione pazza che sto facendo Anche perché non avrebbe senso, visto che sono arrivati col TP Ma perché non controlli se il top è free? Perché non è free? Semplice No, ok, uno si è droppato però, uno si è droppato Col TP, col TP, col TP No, no, è lì l'avrei No, già Sto a chi, noi teniamo quest'high ground Ok Faccio il giro largo a destra Sperando di non acchiappare razze C'è 100? Sono due Sì Non è... Non ci sono due, non ci sono due Sono tre, 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 sono lì Eccco tranquillissimo qui dovrebbe essere perfetto io mi pelato qua sopra tu strocchino visto che è più semplice guarda giù a destra penso a guarda che è uguale sicuramente dei lati non ci salgono e non disturbare quelli destra che ci servono cioè se salgono da noi ma sacrarli però se in altri miti non le quelli dopo mi danno fastidio ma l'ultimo team dov'è? li vedi lì strocchino li vedi lì non sparargli aspetta inizia ad avanzare sto arrivando da qui il patty 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 ha crackato la verità è un hp è knockato uno il patty ma l'hai killato non l'ho acchiappato mai vabbè è morto questo per me questo per me questo per me è morto un patty tu il patty lascelo che tanto muore da me da me lì dietro sono due sono due neido 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 è morta la life vado dall'altra giù giù mi sparano mi è parecchio un tizio a fianco cosa vuol dire che succede occhio 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 c'è anche l'altra team dov'è? eh non lo so stiamo a 2v2 lì no no stracchino stracchino torna indietro torna indietro stiamoci qua io sto allutando sì sì io c'ho 500 heavy qui ci sono altre tre batterie se posso fare uno swap no vai la faccio lì no arrivano 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 eh chi babbo natale dal mio secondo che tiro la batterie anch'io alla vritto ho fatto 70 di danno ok ok il patty 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 eh sto tirando batterie sto tirando batterie ok oh eh vabbè zio dai ma quanto l'ho arato il pathfinder quanto l'ho arato il pathfinder gli ho fatto 110 in volo ah ma lei era full viva zio ma come cazzo hai fatto ah non l'ho più po' di idea non ho zero idea io non lo so ho switchato armor mentre scivolavo guardo in su e l'ho preso visto che l'hai fatto che ho detto vedi dai più 10 ho fatto più 55 probabilmente anch'io più 55 immagino cioè 10 kg un assist più 55 stasera porca broio ah no la partita di scatamento